Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buon 7 di gennaio, buon sabato, oggi gioca la Juventus. E finalmente, finalmente abbiamo una seconda partita molto ravvicinata rispetto a quella dell'altro giorno, quindi possiamo già immergersi, già prepararci, lasciare da parte quelli che sono stati i sentimenti e le emozioni vissuti in maniera contrastante da buona parte della tifoseria per il cremonese Juventus e prepariamoci a quella che sarà invece un Juventus-Udinese molto molto triste, molto molto nostalgico nel ricordo di Gianluca Vialli. Vi ho lasciato qui, eccolo qui, ancora una volta la maglia, direi che per tutta la durata dei video, della serie video dedicata a Juventus-Udinese quella maglia rimarrà sullo sfondo come segno di rispetto e il ricordo dell'ex capitano della Juventus, l'ultimo ad alzare al cielo, un trofeo come la Champions League per quanto riguarda. I bianconeri e tra l'altro una piccola digressione, l'altro giorno proprio in occasione di Cremonese-Juventus si ricordava Luca Vialli che ha militato in entrambe le squadre e guardate un po', quant'è che Juventus e Cremonese non si affrontavano in Serie A, non so nemmeno direte, io non me la ricordo nemmeno un'altra Juventus contro Cremonese, quindi forse da veramente tanti anni a questa parte, è incredibile, sono degli incroci che a volte fanno un attimino riflettere. Dai, cerchiamo di fare un passo avanti, cerchiamo di ragionare un attimo su quella che sarà effettivamente la partita della Juve e facciamolo in un modo molto molto particolare, cioè andando a vedere quelli che dovrebbero essere i giocatori titolari della partita di oggi. Romeo Agresti ieri ci diceva che la formazione provata da Allegra Vigilia è la seguente, Scesni in porta, Alessandro, Rugani e Danilo in difesa, Locatelli, Rabia e Miretti a centrocampo, Costi, Cecchiesa sugli esterni, Ken e Di Maria in attacco. Allora, ragioniamoci un po' insieme perché ci sono diverse cose da dire, tanto dovrebbe esserci la conferma di Scesni in porta. Poi, in difesa, un po' di turnover rispetto a quella che è stata la squadra presentata l'altro giorno contro la Cremonese, dove a sinistra torna Alessandro, quindi Danilo trasloca a destra andando a prendere il posto di Gatti. Invece, al centro della difesa, non più Bremer, nemmeno Bonucci perché è infortunato, ma Rugani. Ieri Allegri ci ha detto che Bremer è un pochino affaticato, in realtà a voi non è sfuggito nei commenti, che in realtà Bremer non solo potrebbe essere affaticato, ma è pure diffidato e la partita successiva è col Napoli e quindi non si vorrebbe rischiare appunto di vedere Bremer nella lista degli squalificati, dato che anche Bonucci in questo momento non è al meglio e quindi avete assolutamente ragione. C'è Rugani, cosa vi devo dire? Tante volte l'abbiamo detto che lì dietro ci sono i veri problemi della Juventus e che per un intervento sul mercato bisogna guardare a quella zona di campo più di ripeterlo tutte le volte che poi vedo che qualcosa va variato, ma anche spesso e volentieri quando è una formazione titolare comunque continuo a leggere Alessandro che ha fatto sicuramente molto bene nella prima parte di stagione, però ho paura che sia stata quasi un'eccezione, non la regola. Ecco, vediamo se invece l'eccezione confermerà la regola. Vediamo, lì dietro continuo a sentirmi abbastanza a disagio per essere una squadra del livello della Juventus. Davanti alla difesa Locatelli, è probabilmente l'unico titolare sempre fisso insieme a Rabiot nella testa di Massimiliano Allegri e invece gli altri cambiano. Allora, qua poi ci torneremo. Tanto guardatevi il centrocampo, provate ad appuntarvi nella testa, ditemi secondo voi cosa c'è che poi qui vorrò andare a dirvi, perché ve ne ho già parlato nelle settimane scorse, il punto di riferimento era Fagioli, non Miretti, ma Miretti entrava nella discussione. E sugli esterni, ragazzi, Costi c'è Chiesa. Allora, Costi c'è non è una sorpresa. Su Chiesa, devo dire la verità, sì, perché Chiesa che torna a titolare, praticamente un anno dopo il suo crociato, beh, non me l'aspettavo. Anche ieri Allegri diceva titolare, non lo so, e poi invece una squadra titolare è stato provato Chiesa. Non significa che giocherà 100% titolare, però nella testa di Allegri c'è anche questa opportunità. Io ero convinto di vedere nuovamente Sule, perché Allegri lo citava nel ballottaggio sulla fascia destra e magari tuttora nella testa di Allegri c'è un ballottaggio proprio con Federico Chiesa, e invece non lo citava nel ballottaggio davanti, con Candy, Maria e Milik, che erano quelli, i tre giocatori, che si stava cercando di capire dove sistemare. Però nei commenti mi avete fatto notare che effettivamente mettere Sule a destra in una partita, tra virgolette, a specchio di ripesa a tre e quindi in una fascia, tutta fascia, a specchio, in un duello individuale con uno come destino Udoge potrebbe essere un suicidio tattico. Avete ragione, Udoge è sicuramente un calciatore molto, molto, molto interessante e sicuramente Sule non ha la gamba e non ha l'esperienza che ha accumulato Sule che ha accumulato Udoge in queste due barra tre stagioni in Serie A, che gli sono anche poi costate, tra virgolette, la chiamata del Tottenham e sono valsa la chiamata del Tottenham e un giocatore molto, molto interessante. Destiny Udoge, veramente tanto, tanto. E sarà un duello interessante, eventualmente, con Federico Chiesa, perché Federico Chiesa, l'abbiamo detto più e più volte, sembra essere recuperato del tutto dal punto di vista fisico. Poi è ovvio che non potrà avere l'impatto, la freschezza, la tranquillità dei tempi migliori, ma queste cose le accumula, le riprende proprio giocando, e magari giocando pure a titolare quasi un anno dopo il suo infortunio. Tanta, tanta roba. Ieri vi chiedevo un giocatore che potrebbe ricordare Vialli nel modo di giocare. È vero che Chiesa non è un attaccante, non è la prima punta, non è un nove, come lo era Vialli, ma in tanti mi avete detto che per la cattiveria, la grinta, lo spirito di sacrificio, anche la leadership, Chiesa un pochino ricorda Vialli, ovviamente non nel gesto tecnico, non nelle movenze da numero nove, ma nel modo, nella grinta, che riesce a mettere dentro la squadra. E quindi sarebbe ancora più delicato il discorso. Prima vi parlavo dell'incrocio con la Cremonese, adesso questo. Quindi vediamo un attimo. È davanti Ken e Di Maria. Allora, io qua proprio voglio tornare, perché Cremonese Juve nell'immediato passato che cosa ci chiama? Ci chiama Niccolò Fagioli, è il prestito, è la titolarità dell'altro giorno di Fagioli, proprio nella sfida dove era l'ex di turno, e Locatelli, Rabbio e Fagioli erano i tre centrocampisti titolari della Juventus fino alla pausa invernale, lo sono stati anche con il primo match ufficiale di ritorno post mondiale, e quello sembrava il centrocampo. Ma come solitamente eravamo schierati, Locatelli davanti alla difesa, Rabbio sul centro-sinistra, Fagioli sul centro-destra. Tutte le volte invece che ha giocato Miretti, lo abbiamo visto o in posizione un pelo più avanzata, magari a ridosso della prima punta, esattamente come aveva iniziato l'altro giorno la partita con la Cremonese, oppure in alternativa nella posizione di Rabbio quando Rabbio è rimasto fuori, magari per infortunio. Difficilmente l'abbiamo visto partire a destra, poi magari c'è finito anche l'altro giorno quando Fagioli si è alzato, Miretti è andato a prendere quella posizione lì. Però solitamente Allegri Miretti lo vede più sul centro-sinistra, più magari anche in posizione avanzata. E allora vi dico, non è che la formazione di oggi con questi 11 può trasformarsi? Non è che in realtà non stiamo parlando di un 3-5-2, ma stiamo parlando in realtà di un 3-4-2-1? E questa secondo me sarebbe la formazione perfetta per gli interpreti a risposizione. Perché? Allora vabbè. La difesa rimane invariata, ho qualche dubbio, devo dirvelo, su Regani in quella posizione, non posso farci niente. Un po' mi preoccupa. Sono onesto, sono sincero. Tra l'altro fare il centrale proprio della difesa 3 richiede anche una certa dose di carisma. Perché comunque devi chiamare la difesa, devi guidare la difesa, devi cercare anche di impostare da dietro. Non so se Rugani è pronto per fare questa cosa, però è ovvio che senza Bonucci ci metti lui. Kostic è nella sua posizione naturale, no? Quello di esterno è una difesa 3, tutta fascia. Chiesa sicuramente non è un tornante, assolutamente no, ma più di una volta abbiamo detto se sarà difesa 3, Chiesa sarà il giocatore più penalizzato e quindi o lo si mette sull'esterno o lo si mette davanti. E in questo momento si è optato per l'esterno anche perché comunque Quadrado manca un ex di giornata che non avremo a disposizione. Rabiot e Locatelli, io sono davvero convinto che siano nettamente meglio in un centrocampo a 2 rispetto a un centrocampo a 3. Perché? Perché Locatelli non è un regista davanti alla difesa. E Rabiot nemmeno è una mezzala. invece che tante volte quando abbiamo visti a 2 abbiamo visto dare il meglio di loro. Anche Zaccaria era un altro che a 2 rendeva molto molto bene invece che da mezzala che andava un po' in giro per il campo. E anche l'altro giorno leggevo che Zaccaria comunque è stato uno dei migliori nella partita del Chelsea contro il Manchester City che in questo momento al Chelsea stanno addirittura ragionando su Zaccaria come potenziale riscatto sarebbero soldi fresche per la Juve. Vediamo come va a finire. Io ricorderete che non avevo compreso l'accessione di Zaccaria l'unico lato positivo poteva essere un'eventuale valorizzazione dei fagioli che in questo momento sta avvenendo però mi è dispiaciuto comprare un giocatore per poi cederlo 6 mesi dopo. Vediamo come va a finire anche questa storia. E davanti Miretti che sicuramente in quella zona di campo sul centro-sinistra sulla tre quarti si trova bene e di Maria nella sua posizione naturale e Moise Ken libero di attaccare alla profondità. Quindi se vogliamo l'unico giocatore tra virgolette penalizzato da questo schieramento è Federico Chiesa. Federico Chiesa perché non è un tornante ma allo stesso tempo lo stesso Chiesa ha detto io lì a Firenze ho giocato il miglior calcio della mia carriera in quella posizione a destra alla Juve a sinistra a compirlo dico che facesse quello ma quasi perché faceva l'esterno a sinistra nel 3-5-2 quadrato a destra quindi comunque Chiesa l'abbiamo visto fare discretamente bene anche lì poi è ovvio che è l'interpretazione del modulo che conta sia Firenze che compirlo la Juve era un altro tipo di interpretazione della difesa 3 rispetto a quella di Allegri sono due cose differenti infatti quando vediamo Chiesa tornare molto in difesa è ovvio che pensiamo cazzo però uno come Chiesa là davanti se ha lo spunto se ha la freschezza se non va a perdere tutte queste energie in fase di non possesso sicuramente qualcosina in più la davanti te lo può dare però devo dirvi la verità con il giocatore a disposizione e con gli 11 provati ieri di Massimiliano Allegri questa determinata formazione 3-4-2-1 mi stuzzica e non poco perché? perché veramente tutti sono nelle loro posizioni ideali e soprattutto aumenteresti la qualità davanti toglieresti un giocatore a centrocampo e andresti a giocarla molto di fisicità perché con un centrocampo di questo tipo Locatelli e Rabiuli in mezzo tanta quantità andrebbero a fare legna quindi sarei veramente curioso oltre al fatto che le probabili formazioni danno ancora una volta l'udinese con Pereira largo a destra nel 3-5-2 che sicuramente non è il suo ruolo naturale dato che anche lui è un centrocampista qualitativo forse addirittura un trequartista l'abbiamo visto trequarti campo o mezz'ala noi alla Juventus Kostic dovrebbe avere sicuramente un altro passo quindi quello è un altro duello molto interessante se chiese Udoji possiamo metterlo quasi alla pari dal punto di vista fisico quindi di velocità Kostic Pereira dovrebbe essere un duello vinto in partenza e sappiamo bene che soprattutto in due squadre che si affrontano con due sistemi di gioco molto simili e con degli spazi perché quando c'è un solo esterno poi vengono a crearsi gli spazi i duelli individuali diventano molto molto importanti e noi siamo sempre stati in una squadra che nel dribbling quest'anno ovviamente nel dribbling faceva molta molta fatica adesso con chiesa Kostic e Maria tutti dentro la stessa formazione qualcosa in più potrebbe venire fuori concludo dicendo che sia nel 352 sia nel 3421 che stiamo vedendo in grafica chiese di Maria giocano sulla stessa fascia perché non è che chiesa sinistra di Maria a destra ma tutti e due dalla destra molto interessante perché perché di Maria parte sia dalla destra ma si butta dentro libera lo spazio per Chiesa che va a prendere in sovrapposizione perfetto invece se fosse stato Sule avrebbero fatto praticamente lo stesso movimento quindi chiesa e di Maria che partano tutti e due dalla destra fanno due movimenti opposti e vanno a riempire benissimo lo spazio l'altro giorno vi parlavo di equivoco tattico in caso di partita di partenza di Sule dal primo minuto praticamente Sule ha giocato molto bene ma faceva esattamente quel movimento di cui vi parlavo e non c'era quella volontà da parte di Gatti in quella situazione di salire e prendere quella posizione proprio perché Gatti è un centrale molto bloccato invece in questo caso con Di Maria che si butta dentro e Chiesa che va sul lungo si creano delle opzioni di gioco importanti perché poi Chiesa che va in sovrapposizione può essere servito proprio da Di Maria e l'uomo ovviamente segue Di Maria si crea lo spazio per Chiesa ma soprattutto Di Maria può anche cambiare gioco andare sul secondo palo a cercare l'inserimento di Miretti o andare sul primo palo a cercare il taglio di Moise Ken quindi iniziano a essere delle situazioni di gioco abbastanza carine e simpatiche ho un ricordo che sicuramente non è questo non è legato esattamente a questa cosa ma due giocatori molto forti molto tecnici che giocavano sulla stessa fascia io mi ricordo nella sconfitta della Juventus di Conte in Champions per mano del Bayern Monaco era il Bayern Monaco di Ainx quello che poi vinse la Champions con Robben e Ribéry che giocavano molto spesso sulla stessa fascia molto spesso vicini per cercare di creare la superiore numerica cercare di scambiare dialogare e cercare appunto il lancio nello spazio ecco dovessimo riuscire a replicare anche solo in minima parte quello che è stato quel modo di interpretare il calcio del Bayern con due giocatori così vicini sono convinto che potremmo iniziare un pochino di più a divertirci rispetto alle partite di questi ultimi giorni e niente fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti noi ci vediamo come sempre nel pomeriggio in live su Twitch per commentare insieme tutta la partita e poi tutti i vari video del giorno dopo e il video immediatamente a caldo li trovate qui su YouTube